Dopo un'odissea lunga quattro giorni, ovvero dal soccorso in mare dello scorso lunedì, i 34 migranti di origine iraniana e irachena, tra cui minori e bambini, ospiti della nave da crociera Norwegian Gateway, sono sbarcati a Brindisi per essere accompagnati nel cara di Restinco. Come si ricorderà, la presenza della nave, o meglio dei 34 profughi a bordo, era diventato un piccolo caso. Lungo l'asse Roma-Atene, il ministero infatti aveva in un primo momento negato lo sbarco dei migranti, soccorsi in acque greche, costretti quindi sulla nave ormeggiata da martedì e mattina alla diga Punta Riso di Brindisi, dove peraltro avevano iniziato lo sciopero della fame. Nel pomeriggio di venerdì da Roma è arrivato l'atteso via libera. I profughi sono stati accompagnati al cara di Restinco prima di raggiungere le destinazioni loro assegnate con le operazioni coordinate dalla prefettura di Brindisi, con l'ausilio dal personale della Questura. Sono tutti e 34 in condizioni di salute relativamente buone.